Diciamo che noi siamo un ente parco regionale, che però è l'unico parco in Italia che ha al suo interno un'azienda agrozootecnica di dimensioni importanti e che rappresenta per noi un fiore all'occhiello, in quanto abbiamo deciso di mantenerla per dimostrare che anche da un punto di vista pubblico possiamo tranquillamente esercitare buone pratiche e anche buone culture. Sono circa 200 gli esemplari di bovini che vengono allevati allo stato brado all'interno del parco di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli. L'azienda agrozootecnica ha messo a disposizione di questi animali 500 ettari di spazio libero per pascolare nutriti con foraggio e fieno a chilometro zero. Un progetto che ha consentito l'autosufficienza alimentare per questi animali. Noi abbiamo qua l'allevamento bovino che presenta tutte e tre le razze tipiche toscane la chianina che è la più conosciuta con una maggiore vocazione per la produzione di carne e poi le altre due razze, la maremmana e la pisana che è quella endemica di questa zona che sono razze più antiche, più rustiche e più adatte al pascolo brado. Qua infatti pratichiamo il pascolo brado che significa che le vacche, le mandrie stanno per tutto l'anno all'aperto nei pascoli dove possono sempre mangiare erba, avere lo spazio per sdraiarsi, trovare ombra e quindi massimizziamo quello che è il loro benessere. Anche quando d'inverno ovviamente i pascoli sono carenti, diamo comunque mangime coltivato qua all'interno del parco, quindi biologico, fieno, prevalentemente fieno e qualche farina di cereale sempre biologica del parco. Le prossime sfide riguardano il completamento della filiera dei bovini con l'introduzione dell'ingrasso dei vitelloni al pascolo per l'utilizzo efficiente dei pascoli e il loro miglioramento ambientale e il contenimento degli ungulati con corridoi ecologici verso altre zone della tenuta. Diciamo da un punto di vista del benessere massimizziamo tutto quel che è possibile fare per il benessere animale finché stanno qua in tenuta. Poi dopodiché i vitelli, una volta svezzati, vengono portati nelle stalle in attesa di essere venduti all'asta.